Ciao, sono Gianfranco Caliendo e vorrei invitare tutti i miei amici al concerto che si terrà il giorno 5 maggio al Teatro Troisi in compagnia della mia Miele Band con i quali presenteremo il nuovo CD dal titolo Oltre il Giardino che sarà in vendita nel foyer del teatro insieme al mio libro Memoria di un capellone. Ospiti fuori a contento Gianni Averardi, produzione Agostino Romano, radio ufficiale Radio Amoro. Per info e prenotazioni telefonare allo 081 1936 3303, whatsapp 347 8560493. Raffa Gulman a te Oh yeah